Questo è il terzo video girato su questa fungaia. I funghi sono decisamente cresciuti, come si dice, però all'intervento delle lumache ha pareggiato quello che è stata la crescita. Ora questo lo dovrò cavare perché mi sta scoprendo un po' tutte le magagne. Comunque anche quest'arte, come vedete, sono bellini. E' una fungaia che sta buttando il suo frutto. Qui ci sono questi gasteropodi che ho stabilito che sono i migliori funghi del mondo, perché come trovano funghi loro. Allora, ora questo lo caverò, i soggetti vicini, devo interrompere. Poi i prossimi video riguarderanno questi 1, 2, 3 e altri funghi. Arrivederci.